Siamo sulle alture del parco naturale regionale Sirente-Velino, a 1100 metri di quota, e proprio in questo luogo solitario si trova un piccolo lago, la cui origine sarebbe legata alla caduta della cometa che attraversò i cieli dell'Italia centrale nel IV secolo d.C. Da specchi d'acqua, folaghe e girini siamo rimasti incantati dal luogo quanto dalla leggenda che vede il lago protagonista. Proseguiamo il nostro giro con la visita alle Pagliare di Chione, dei villaggi agresti di altura a testimonianza della cultura contadina della montagna abruzzese di un tempo. Questo villaggio è stato completamente abbandonato attorno al 1975, ma oggi molte abitazioni sono state ristrutturate per brevi villeggiature. In questo scenario quasi dolomitico è possibile raggiungere mete molto suggestive, borghi, castelli, torri, chiese, conventi e tanto tanto altro ancora. Non perdete i prossimi video!